Musica Ci troviamo nella piazza più bella di Pietrasanta e non soltanto, una delle più belle della Versilia, la piazza del Duomo dove è in corso di svolgimento una bella mostra di macchine Ferrari perché oggi la sedicesima edizione del premio internazionale Barsanti e Matteucci verrà consegnato proprio all'amministratore delegato ovvero il numero uno della casa di Maranello Il premio internazionale Barsanti e Matteucci è oggi una delle manifestazioni più importanti dell'amministrazione comunale di Pietrasanta Il premio che si svolge in collaborazione con il Rotary Club di Reggio Versilia, ideatore di riconoscimento ha il merito di avere riportato alla ribalta le figure dell'illustre Pietrasantino Niccolò Barsanti, nato nel 1821 e del suo socio lucchese, l'ingegner Felice Matteucci, con il quale collaborerà per il resto della vita L'applicazione del motore a scoppio ai veicoli, di loro invenzione, ha infatti favorito un incremento inimmaginabile delle comunicazioni, dei trasporti e dell'industria permettendo l'annullamento delle distanze fra i popoli e i paesi e favorendo indirettamente la crescita della cultura e la circolazione delle idee di tutti gli uomini che hanno viaggiato su questi mezzi Questo premio vuole essere il simbolo tangibile dell'importanza scientifica ed umana dell'invenzione di Barsanti e Matteucci Nello stesso tempo si prefigge di assegnare un riconoscimento a quanti continuano in Italia e nel mondo l'opera di ricerca e di miglioramento dei mezzi a motore, con l'obiettivo anche di risolvere i problemi di inquinamento legati all'inimmaginabile diffondersi dei mezzi di trasporto non certo previsti al tempo in cui fu concepito il motore a scoppio Presidente Belgiotti, lei è stato presidente del premio internazionale Barsanti e Matteucci Sono stato il presidente nell'anno in cui il premio ha svolto la sua prima edizione che fu vinta dall'ingegnere Stefano Jacoponi Ed è un premio questo che è diventato importantissimo a questo punto, una delle eccellenze della nostra terra Beh, certamente sì, per l'importanza non tanto del premio di per sé quanto della figura che ricorda e quindi padre Eugenio Barsanti, illustrissimo scienziato che non ha bisogno di ulteriori precisazioni e specificazioni la cui fama di inventore del motore a scoppio non è ancora così riconosciuta a livello mondiale come dovrebbe essere perché la sua invenzione ovviamente è datata prima di quella di Lenoir Edotto e siamo intorno agli anni 1850 Quest'anno il premio è assegnato al numero uno della Ferrari? Beh sì, è l'amministratore delegato di Ferrari, l'ingegnere Felisa Felisa è un uomo di azienda, è poco conosciuto, è schivo, non riceve volentieri i premi è venuto qui, ve lo dico ovviamente agli amici della televisione che conosco bene perché Stefano Jacoponi lo ha avuto come allievo e quindi con il trainer di Stefano Jacoponi che ancora oggi ci onora della sua amicizia e lo vedrete perché è il coordinatore tecnico scientifico del premio abbiamo qui l'eccellenza italiana, l'amministratore delegato di Ferrari E il Rotary è sempre vicino a questa manifestazione? Il Rotary insieme con il Comune di Pietrasanta si adopera perché questa manifestazione possa essere fatta il Comune di Pietrasanta è l'organizzatore, il Rotary in questo momento mette a disposizione gli uomini e le persone perché il premio possa realizzarsi ogni anno Una cerimonia importantissima per la città di Pietrasanta? Beh, come dire, parlando di motori, parlando di motori a scoppio, parlando di innovazione tecnologica parlando di futuro, più che la Ferrari ho la sensazione che oggi nel mondo non ce ne siano altre E' chiaro che questo è uno dei momenti più alti del premio Barsanti e Matteucci E' dal 2000 che noi abbiamo messo mano a questa importante iniziativa e oggi con il premio ad Amedeo Felisa credo che raggiungiamo i vertici della categoria I vertici della categoria puntando sempre, perché questo è il nostro scopo, sull'aspetto scientifico Perché l'aspetto scientifico del premio Barsanti e Matteucci è per noi al primo posto Quindi non è la fiera delle Ferrari, non è la sagra del Brigidino o della Mondina Questo è un momento di alta filosofia scientifica che ha portato un'azienda come Ferrari ad essere leader nel mondo A vincere i gran premi e a dare sicurezza con delle autovetture che ovviamente fanno sognare ormai da 50 anni le persone Quindi credo che sia un risultato importante Io ho voluto ripartire col premio Barsanti, ci sono state delle polemiche lo scorso autunno Ma come mai non facciamo il premio Barsanti? Oggi credo che la risposta sia arrivata Perché volevamo essere in cima alla vetta ripartendo con questa iniziativa così importante Il numero uno della Ferrari, quindi venuta a Petrasanta, come è stato accolto e quali sono state le sue sensazioni? Ma Amedeo Felisa è la storia della Ferrari, è dal 1990 che è in quell'azienda E di conseguenza ha rappresentato il momento più alto della società con i grandi risultati sia sportivi che economici L'azienda è diventata leader dal punto di vista della produzione di autovetture che io definirei da pista Ma che ovviamente vanno in strada e rappresentano il primo produttore a livello mondiale di autovetture di questo tipo Quindi Amedeo Felisa si è trovato a sposare la sua esperienza, quindi Ferrari, con l'esperienza dell'arte Io sono stato allo stabilimento di Maranello Credetemi che non c'è artigianato più artigianale della produzione delle autovetture della Ferrari Ogni auto è diversa, ogni auto è fatta da artigiani che fanno solo quella macchina Quindi c'è un gruppo di persone che si dedica a questa, un gruppo di persone che si dedica a quella Un gruppo di persone che si dedica all'altra e non esiste una catena di montaggio Andando in Ferrari ci si rende conto che ci sono sulla stessa catena, sullo stesso punto di rotazione Perché è un tappeto che ruota, autovetture di colore diverso, di cilindrada diversa, di modello diverso, di interni diversi Tutto diverso, quindi pezzi unici come sono le opere d'arte che per esempio oggi sono qua a Pietrasanta Le opere di Rinaldo Bigi che fa la mostra qui da noi in Sant'Agostino Quindi come si può essere trovato un ingegnere che punta alla tecnologia ma all'unicità del pezzo? A casa, questo credo che sia la risposta, si è trovato a casa Tra le molte iniziative che sostiene la vostra banca un occhio particolare per questo premio internazionale Balsanti e Matteucci Verissimo, noi siamo presenti anche stasera così come in tantissime altre iniziative Ma stasera in particolare vogliamo essere qui perché il premio Balsanti e Matteucci è straordinariamente importante Ricorda coloro i quali hanno inventato il motore a scoppio 1853, due concittadini, uno addirittura Pietrasantino Ecco perché la nostra presenza è ancora più importante E non ultimo perché in questa formidabile città non può che non esserci la banca del territorio Quindi ci siamo Ingegnere buonasera prima di tutto Intanto ricevere questo prestigioso premio nella città dove è stato inventato il motore a scoppio Credo che sia un riconoscimento straordinario Ma credo che il motivo fondamentale del piacere è il fatto che siccome per Ferrari i motori sono una cosa importante Sono il cuore delle nostre macchine Quindi avere un premio nel posto dove sono stati inventati i motori è effettivamente un collegamento che ci piace Cerimonia dell'assegnazione della sedicesima edizione del premio Balsanti e Matteucci Conclusa, già si lavora per il prossimo anno e in chiusura ricordiamo che l'inventore a Pietrasanta Tra gli italiani illustri riposa nella Basilica di Santa Croce a Firenze Grazie